Oggi andiamo a vedere più nel dettaglio un testo, non lo vedremo per intero, ma ho estrapolato alcune frasi delle quali vediamo come si scrivono le parole, la traslitterazione e la traduzione. Il testo è il famosissimo inno all'Aten, scritto probabilmente dallo stesso Achenaton, Nafarone Amenofi IV, del Nuovo Regno, che noi conosciamo dalla versione che è stata trovata, scritta all'interno della tomba di Ai, genero e successore di Amenofi IV, nella sua tomba di Telenamarna. La cosa interessante dal punto di vista della lingua è il fatto che l'Inoallaten venne redatto in neo-egiziano, non nella lingua egiziana classica, ma in una forma di egiziano popolare, nel senso era una lingua parlata che Achenaton inizia ad utilizzare come forma linguistica scritta per documenti ufficiali, per iscrizioni ufficiali. E questo è una delle tante innovazioni interessanti dell'epoca di Amarna. Di Achenaton ovviamente si conosce l'aspetto più appariscente legato al culto dell'Aten, del Sole, ma all'epoca di Amarna e Achenaton lo stesso mise insieme tutta una serie di innovazioni estremamente interessanti che hanno l'apice di manifestazione con lui, quindi con il suo periodo di regno e con lui poi si interrompono bruscamente. L'Inoallaten è un testo che nella frasiologia e nelle espressioni comunque non è completamente nuovo nel panorama della letteratura e della storia egiziana. Un richiamo, il suo richiamo diciamo più vicino, è quello del cosiddetto l'Inno di Amorra, del papiro Bulac numero 17, dell'epoca di Amenafi II. Quindi questo per dire che sì, Achenaton, diciamo, in Achenaton vediamo tutta una serie di elementi nuovi di rottura rispetto alla storia dell'antico Egitto, però non poi in realtà così nuovo, nel senso che con Achenaton c'è una manifestazione visibile di qualcosa che comunque degli elementi comunque erano già presenti. Diciamo, l'Inno dell'Aten di Achenaton è la manifestazione più famosa di un voler trasferire in un'entità divina che cosa? Un aspetto più umano e il senso stesso di provvidenza, no? come noi la conosciamo da tramite Manzoni. No, la provvidenza di questa divinità che sta dall'alto e che si occupa di cosa? Dell'uomo, del creato, degli animali, delle piante. Quindi è una provvidenza che si occupa di tutto il creato, di tutto l'esistente. E appunto è tra gli elementi più caratteristici dell'Inno dell'Aten, ma questa espressione di umanità la ritroviamo anche in testi più antichi, quali per esempio il cosiddetto insegnamento per me ricara. Oppure nello stesso testo dei sarcofagi ci sono, diciamo, dei passi in cui si individua già un voler percepire e manifestare il divino in questo senso. Per esempio, qui mi sono segnata un passo tratto da appunto i testi dei sarcofagi che esprimono appunto questa fede, diciamo, questo credere in un piano provvidenziale di un divino. E qui infatti si dice I falchi vivono degli uccelli più piccini, i cani delle loro prete, gli ippopotami delle paludi, gli uomini dei cereali, i pesci di ciò che è nell'acqua, tutto ciò conformemente all'ordine di Atum. Quindi no, c'era già questo sentire e questa ricerca. La rivoluzione di Alamarna quindi non viene dal nulla, ma è il risultato di una serie di esigenze che probabilmente già erano presenti da tempo. E c'è stata sicuramente la volontà di rompere con il passato, la volontà di rompere con il passato, diciamo, riassumendo questo nuovo atteggiamento in che cosa? Nella figura dell'Aten, del disco solare. Ma il culto del disco solare non in quanto oggetto astronomico, ma il disco solare che emana luce e che suscita e quindi mantiene e dà la vita a tutti, agli animali, agli uomini, alle piante. Dell'Aten, l'Aten non venne inserito in racconti mitici, quindi non abbiamo episodi che ci raccontino di cosa facesse e di come si comportasse, come per altre divinità dell'Antico Egitto, che noi le conosciamo appunto da tutta una serie di racconti da cui abbiamo estrapolato caratteri e caratteristiche. L'Aten non parla, semplicemente si manifesta e il suo unico intermediario con noi uomini è il faraone, nel caso specifico Atenaton e la sua famiglia. Quindi questa fu una rottura importante e interessante, sicuramente politica, in cui il clero viene spazzato via e l'unico intermediario ufficiale accreditato più che del volere dell'emanazione vivificatrice del sole è Atenaton. Quindi l'età di Lamarna e quindi Aghetano stesso introducono tutta una serie di innovazioni sia teologiche, politiche, ma non solo, anche artistiche. e soprattutto una serie di innovazioni e di rotture che vogliono rompere con un passato in cui era presente una sorta di eterno presente. Tutta la storia millenaria dell'Egitto si manifesta con una sorta di eterno presente, congelato, identico a se stesso per secoli e per millenni. e quindi, diciamo, ad Atenaton che cosa si può riconoscere? Sicuramente il coraggio di introdurre una visione nuova in cui il faraone, in quanto rappresentante in terra e intermediario del mondo divino da sempre, mettere precedentemente a lui era un qualcosa che il faraone stesso di statico, di hieratico, no? Una staticità, una hieraticità che cosa voleva comunicare? L'eterno, l'eternità l'eternità di determinati principi l'eternità di determinate situazioni e l'eternità di determinati ruoli. Con Atenaton tutto questo vuole spazzare via tutto questo quindi interrompe tutto questo e cosa fa? Di bello, diciamo. Introduce movimento, introduce sentimenti, introduce emozioni. Noi con Atenaton vediamo per la prima volta che la famiglia reale sono uomini come tutti noi. Ci sono queste bellissime scene di amore, di tenerezza, di complicità di Atenaton con la propria consorte, con le proprie bambine che tutti insieme partecipano dell'emanazione di cicatrice del sole attraverso queste manine che scendono verso di loro e diciamo questa è una cosa che non era mai accaduta, accade con Atenaton e non accadrà mai più. I sentimenti, le emozioni del faraone che fino a quel momento era un dio in terra e quindi non era necessario manifestarne determinati aspetti privati in questo senso. E quindi il faraone è un po' un uomo come tutti noi. Per quanto riguarda molto spesso quando parlo dell'inno a Aten la domanda che sorge naturalmente è la similitudine di alcuni passi di questo testo con il famoso Salmo 104. Indubbiamente similitudini ci sono, diciamo ci sono dei punti di contatto e in entrambi sicuramente c'è una cosa fondamentale quale? La ricerca di raggiungere una sorta di definizione della natura di Dio. Una natura di Dio essenziale, diretta, senza particolari orpelli, senza particolari sovrastrutture. Quindi la ricerca di un'essenzialità che dia senso appunto al concetto di divino, di Dio. Questo diciamo è un elemento secondo me fondamentale alla base di entrambi entrambi questi quello che comunicano questi due documenti. Però sono due testi che appartengono a due poche storiche differenti al di là che geograficamente appunto il salmo diciamo lo collochiamo in Palestina e l'inno all'aten in Egitto. Al di là di questo sono testi che fanno riferimento a due epoche storiche differenti e al di là che comunque stiamo parlando del vicino oriente quindi contaminazioni anche attraverso il tempo sicuramente ci saranno state ma al di là di questo purtroppo cos'è quello che manca fondamentale parlando da un punto di vista archeologico e storico proprio concreto manca un'abbondanza o comunque un'esistenza di documenti di un certo inconsistente contemporanea di entrambi che facciano cosa? Che potrebbero documentarci un dato essenziale che entrambi questi due documenti ripeto di due epoche storiche differenti però non siano altro che la punta dell'iceberg il relitto o comunque una traccia di un movimento politico religioso teologico che comunque era presente e che noi non vediamo documentato perché non abbiamo documenti o comunque non abbiamo una mole necessaria che statisticamente appunto ci dia era un un indizio di un di un movimento teologico di questo di questo genere e per quanto ne possiamo sapere potrebbe essere stato un sentire una necessità che comunque era presente in tutto diciamo l'ambito del vicino oriente che casualmente diciamo in maniera fortuita noi vediamo documentato in Egitto e in Palestina per delle fortunate situazioni politiche e sociali perché comunque che è nato non faraone e quindi fu in grado di rendere manifesta e palese un diciamo un pensiero che chissà forse c'è era contemporaneo a lui c'è sempre stato e che però non usciva fuori non veniva manifestato perché non c'era la situazione politica sociale potente che potesse mettere in luce questo diciamo questa questa idea di fondo quello che possiamo dire appunto che diciamo al di là della similitudine tra i due testi i testi comunque comunicano e manifestano due visioni completamente differenti del del divino l'atene infatti è una forza che governa benevolmente però in modo distante non si occupa del destino dell'uomo la sua preoccupazione non è quella di darci delle regole di comportamento delle regole morali è lì è un'entità una forza una luce che dà la vita che è presente che ha dato la vita e che sta lì senza un contatto diretto se vogliamo neanche con con aghenaton che comunque è un intermediario però è sempre un rapporto non particolarmente diretto non so come dire mentre invece nel giudaismo mosaico dell'epoca di Mosè diciamo il divino l'elemento divino che cosa fa qual è il ruolo è quello di essere un elemento agglutinante unificante di cosa di un popolo che si sente diverso che si sente che è adesso non andiamo nel dettaglio della questione comunque di un popolo che si sente che vede in se stesso delle caratteristiche diverse rispetto a tutto quello che è fuori tutto quello che è fuori dal proprio popolo e dalla propria comunità è un qualcosa di diverso che viene spesso visto o anche semplicemente percepito come come ostile diverso e stile quindi diciamo poi al di là di tutto di chi si domanda del monotismo dell'inodiato nel monotismo mosaico diciamo al di là di un concetto di fondo come ho detto di base della ricerca del divino dell'essenzialità dell'essere divino poi la soluzione è diversa perché probabilmente il seme chi lo sa può darsi che sia stato lo stesso però innestandosi in realtà sociali economiche territoriali completamente diverse portò poi a dei risultati diversi e quindi quello che noi ci possiamo chiedere che cos'è è che attraverso la che nato forse abbiamo una manifestazione possiamo vedere una sorta di tradizione di dissenso intellettuale che normalmente non era visibile e che chissà intellettuale religiosa politica che chissà forse c'è sempre stata nella storia dell'antico Egitto non è proprio solo del nuovo regno comunque di un periodo storico ben preciso una forma di dissenso che c'è sempre stata che però non aveva la forza di emergere e che invece con Akhenaton per chissà quali motivi o comunque insomma ecco riuscì a portare per così dire alla ribalta a cercare di imporre di dare un passo nuovo alla storia dell'antico Egitto che però diciamo con lui ha questa parentesi e con lui finisce e viene conclusa e terminata per ritornare poi a quell'eterno presente a quell'eterno attimo congelato che comunica cosa all'eternità e la perpetuazione dell'eternità e quindi chissà una visione alternativa che forse è sempre esistita e che noi abbiamo come comunica manifestazione l'inno l'inno all'aten segue quindi il mio video vediamo insieme alcune alcune frasi e poi per chi voglia approfondire il testo e leggersi tutta la traduzione consiglio il testo letteratura e poesia di Edda Bresciani che è il testo principale manuale di letteratura in cui ci sono delle traduzioni veramente veramente belle tra cui anche il lino all'aten è tradotto veramente in maniera poetica per quanto riguarda invece l'Atenaton e quindi tutta la fase storica politica religiosa avevo il libro dove l'ho messo ok mi prendo ecco quindi chi voglia approfondire l'epoca di diciamo tutta la fase storica di Atenaton c'è appunto Atenaton la religione della luce nell'antico Egitto di Eric Orlung anche questo un manuale un libro fondamentale per chi voglia iniziare ad approfondire in maniera seria e archeologica questa fase storica anche perché poi c'è tutta la la bibliografia e quindi si può ulteriormente approfondire questo periodo storico di Atenaton was the beginning of love you look so hot but you can't see it in love just find it and take it don't let regret it make me your only one you choose it, don't lose it don't let confuse it only then you'll be gone feel like, feel like, feel like that feel like, feel like, feel like that feel like that lay your arms around me and stay with me feel like that lay your arms and stay with me, baby feel like that lay your arms around me and stay with me feel like that lay your arms and stay with me, baby feel like that feel like that Grazie a tutti 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 Grazie a tutti